La Polizia di Stato ha applicato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Giancarlo Maltese, classe 1978. In ragione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dello stesso, la misura è stata emessa dal GIP presso il Tribunale di Marsala, a esito di una serrata e articolata indagine condotta dai poliziotti del locale commissariato, intervenuti lo scorso 22 settembre su richiesta del figlio di un'anziana signora, anche egli parte offesa, a seguito di una grave rapina verificatasi all'interno dell'abitazione della madre. Questa infatti ha subito gravi lesioni, giungendo presso il pronto soccorso del locale nosocomio in prognosi riservata. L'identificazione del responsabile da parte dei poliziotti del commissariato di Marsala è arrivata a esito di un'accurata analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza presenti in prossimità dei luoghi teatro degli eventi, ritraenti proprio l'ingresso e la fuga del malfattore dal posto dove si era consumata la rapina, con i medesimi capi di abbigliamento indossati durante il delitto e in seguito rinvenuti e sequestrati dagli uomini della polizia per strada sotto l'abitazione del rapinatore.